e diciamo si chizza e diciamo si chizza e diciamo 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 e quindi e quindi e diciamo e quindi e quindi e quindi e diciamo e diciamo e diciamo e diciamo e diciamo e quindi e quindi e diciamo e diciamo e diciamo e quindi e diciamo e quindi e quindi e non è l'inforzio come ringerio e il vero per papa il vero per il camminare è il vero che c'è il vero Alvarez il vero che il vero con il myccia il vero che il vero sono niente non è il vero che i dirigi quando il vero che il vero ogni vero che il sentito il vero che il vero volto all'alità il vero che il vero per quanto non è che noi siamo benissimo ma sanita che questo experienced gli scambia è 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 ha è è è è è è Siamo arrivati a Sanzgo. eee in trafrancforte i ragazze coi imezzaneza ujenanje nama yanzi eee nai yo nah yo nai yo nai yo nai yo nai yo nai nai l'amore, l'amore l'amore, l'amore ha fatto la scopo di così, la scopo di scarverine in l'amore a dove era la scopo di scarverine. La scopo di scarverine da scopo, la scopo di scarverine e non si fa a capire la scopo di scarverine. sono un'escrizione quasi si 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 grazie mille commissari di questo il gruppo il gruppo il gruppo il gruppo il gruppo ariko zokuru yuagata anu we are the first to announce these rumors haa nibi nivishoboke a changa se nivishoboke nibi nivishoboke a changa nivishoboke busukom bitenchele za gachensi na nha go izige ari nako kane newcastle united ili mogu shachisha umusoro a tottenam pierre emile hodgebag umu mediateri sedishiza tukovga kou arume mubeza muli premier league ariko kuva anjo poste koguru yajira muli premier league yabuzo mnanya so newcastle nivishoboke waje waje ugafata nia nuita unuita kwa brunel guimaresh shen longu staff ndetse nuita kwa nagapetikim yaka chuminiri ngui mailo sinzili bubbo nyimuru idjutsi chara chara koo jagan kroop atazonjira kuto za rivapur nyumayisezo vira tangaje vira tangaje mbjukuri nje bira nanungwe rivapur officially avitangaje kururu gargwa rivapur ko nyumayisezo atazako mezanya nikipea rivapur rivapuru ndateche rezako bigoye kuwa nundi mutoza uzava na rivapur kurugu yegurumge akarujeza kurundi ngibjo jagan kroop ilako ze mrii mnyaka isaga umonani ya ramazimura rivapur ndateche rezako taiti ndato i breaking yu ya jagan kroop wa huu gotu kwa za isa senguru umonsi wejo ndateche rezako tukwa vifuka honeza ture eva ripapuri hombjichi ndateche rezako tukwa vifuka hombjichi ndateche rezako tukwa vifuka hombjichi ndateche rezako tukwa vifuka hombjichi nabuonye pochetino arimo ashi magiza uwi tukwa amando blanja anima na vika ngoi vila nagoi ya li kuwenjewa vatoza na jin31 ujibwa nacha uku licha mainterview ya abu baragu changa animana vika ngoo armando broja afte amazing potential kurundi ruhande akewa na mchize kisoko ajie kuuzana umu chinyi uchi namurastoni vila luita joni durani umu niya kanao chumi nichenda ufiti mtp wibili mbili premier igi ya anjiza haka guri wa cha hichini na kugira mhago ali pochetino yu gusha haka durani non ne ha i scouting team guarda che l'ha come vedo e non mi a quando le mondo perché l'accabele con i chamberi l'accabele il ci ha avuto il un po' e il un gli accordo e l'accoglia si l'acqua si c'è non c'è un concerto che faccio chiamo un Scania con il Stingale che aveva un luogo con lui quando c'è Armando Brodra E'vencita fanno una città e'vencita ho messenia non c'è nessun solde omb descrição non c'è tanto si aveva le portiere ma sono tutti fatti il nostro servizio il nostro canale è che si è vede il nostro canale sull'arguento ma si tratta di vedere poi non lo servono i fanzone ma non ci ha uso il fanzone non lo stesso domani lui mi piace, non lo stesso posso farlo il miguelo si ma come giusto il miguelo si non ci ha chiamato gli uombrano il miguelo si uscalina il miguelo il il miguelo si è un miguelo mentioned, grazie, grazie in questo mixio? Il vero che il generazione ma allo che ha aperto le riempie! E' di questo tempo, grazie a tutti i ragazzi o nobili. Poi stiamo andando con loro, però non consiglio, la prima parte che il governo hanno mai affusato. E' quello che avvenuto il governo, perché lo dovuto fare avanti su Gia, è stato d'azienda con gli medici e il governo della casa? Si è un pollo dietersdi, un bel giorno in un anno di questo c'è un anno di Diego Costa Diego Costa non è stato un anno non è stato un anno di quel momento però abbiamo incontrato il tempo Lato di Diego Costa, questa è stata un anno di di Friarget Lato di Diego Costa, l'anno di stare nella Premier League Lato di Diego Costa, l'anno di essere incontrato Lato di Diego Costa, il giallo di Mbicà Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Fc mmojogo chi america Uvungubo akabayu jirimyaka minongo i tatu nini, uyunawa liku isoku Ama chi pere razo genge, yaka bajira te yaka aja kuihahira Tu li kufuga umechinini ka Jesse Lingard, inaule kuizos Umge mwa attacking bid Free da wongjeleza fuga guy yuko ajie kuzeh batu kwaara Hali kona ye kariere kube renangokuwa angimini tozo Kudakora tiza zihajise nawe nini kariere ilimila jendira ajira Uvungu alifree agenti chipe musha haka Come si è uguale? Si è uguale, ti chiamano la cultura del FAMI. Chi è uguale senza colazione? Chi è uguale senza colazione? Chi è uguale senza colazione? Comunse, si è uguale in seguito con un uomo che solo time out, il modo di fare valore. Ma ora allora che le stavano da una cultura del FAMI? Lei è uguale. Questo è uguale, ma ora ora in mancava? Ed ora l'ฉerenza è uguale? Ma ora? Tu è uguale, le stavano da un GEO? la FI cap, la FI cap, la FI cap, la FI cap, la FI cap. la FI cap, la FI cap, la FI cap. la FI cap, la FI cap, la FI cap. la FI cap. la FI cap, la FI cap, la FI cap. . 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 Noi, ma bisogna di condividere Pari in maniera per aerei L'altro è una persona che si riuscita Voi fare da'erei E' quello un po' delle altre persone Di quanto si stessa e non il risponde L'Exросpite che presenze L'indietro è molto professionale Nuo la stessa a far il nostro lavoro Noi è un accordo L'indietro è il momento Rekà, ora, si questo l'indietro Voi invitare la Focca Academy Future Focus Academy Nuumuti Nava Sangara Mujiporoso Ava Nuwazi Anu KFC Ikorela Nekure Tache Vejiranyi Nekure Tache Vejiranyi na KFC Agachi Nige Nipiano Bro Asante sana my brother